Buongiorno a tutti, oggi è il 25 ottobre 2019, siamo qua nei pressi del Ponte Meier di Alessandria. Professore Manzini, stiamo vedendo che il livello del fiume del Tanaro non è preoccupante, che è quasi, non dico nella norma, forse nella norma di questa stagione. Il nostro amico Monticone sarà contento, anche perché fra qualche settimana iniziano i lavori di pulizia del Greto e quindi ci prepariamo alle grandi piogge di novembre. Certamente la settimana che sta finendo, questa settimana, ha dato una bella botta. La provincia di Alessandria è andata agli onori della cronaca purtroppo nazionale, anche con il morto che abbiamo avuto e i disastri notevoli. È una provincia sfortunata che però ha bisogno proprio di una registrata dal punto di vista dell'ambiente e soprattutto della questione idrogeologica. Comunque qui abbiamo il nostro ormai simbolo di Alessandria, il Ponte Meier. L'acqua scorre abbastanza regolare, calma direi, per la stagione. Il cielo non è particolarmente minaccioso, lì abbiamo anche un cormorano che nuota o una paperetta che sembra più un cormorano e dunque la vita scorre in questa tranquillità che speriamo non sia una tranquillità momentanea ma che ci porti per tutta la stagione autunnale senza particolari preoccupazioni. Ormai ne abbiamo avute tante. Speriamo che terminino. Sono cormorani, sono cormorani, ce ne tre, li vedete, si fanno trascinare dalla corrente. E' un ambiente ideale per questi animali che vivono sull'acqua e per l'acqua. Va bene, a questo punto salutiamo i nostri amici Gianni e Piero che non sono presenti. Gianni ha le sue difficoltà di salute, gli siamo vicini e Piero ci sta guardando in questo momento. Arrivederci ai nostri amici e a chi ci vuole bene. Arrivederci.